abbiamo visto come diversi gruppi di tribù germaniche abbiano pian piano occupato il territorio che era stato dell'impero romano in Italia si stabiliscono gli Ostrogoti che erano fuggiti proprio dagli attacchi degli Unni gli Ostrogoti erano guidati da Teodorico avevano occupato l'Italia dopo aver sconfitto Odoacre uno degli ultimi generali dell'esercito romano e avevano stabilito la loro capitale a Ravenna dove Teodorico tra le altre cose si farà costruire un palazzo bellissimo non dobbiamo stupirci infatti di questo perché noi abbiamo un po' l'immagine di questi barbari, rozzi, incolti, ignoranti in realtà Teodorico era un uomo molto istruito e anche raffinato perché aveva trascorso alcuni anni alla corte di Costantinopoli come ostaggio come ostaggio cioè proprio come garanzia del contratto stabilito tra la sua gente e i Romani d'Oriente quando divenne re della penisola italica governò molto a lungo e con saggezza una prova di questa saggezza fu la tolleranza che manifestò sempre nei confronti delle altre religioni gli Ostrogoti erano ariani cioè seguivano una religione che si distaccava un po' dalla dottrina cattolica perché i seguaci di Ario sostenevano che Gesù non fosse il figlio di Dio ma fosse un uomo come tutti gli altri quindi non credevano nella sua natura divina eppure per Teodorico questo non costituì mai un problema anzi cercò di smussare i contrasti tra gli Ostrogoti e i cristiani cattolici che vivevano nel territorio permise agli ex cittadini romani di essere giudicati in base alle loro leggi perché tutto sommato riconobbe che erano sicuramente superiori alle regole germaniche e diede ai suoi guerrieri soltanto un terzo delle terre conquistate lasciando agli altri, ai proprietari legittimi i loro terreni l'unica differenza che Teodorico segnò con molta precisione fu la differenza tra chi poteva portare le armi e chi invece no i germani potevano essere armati e quindi svolgevano le funzioni di soldati di difesa del territorio mentre gli ex cittadini romani assolutamente a loro era preclusa questa possibilità e per tanto tanto tempo Teodorico governò su tutto questo vasto territorio mentre nell'Occidente accadeva questo in Oriente cominciavano dei cambiamenti allora questa cartina ti fa vedere prima, appena prima della caduta dell'Impero Romano la divisione tra Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente l'Impero Romano d'Oriente però stava velocemente cambiando qui abbiamo i confini dell'Impero nel 476 cioè quando ormai in questa zona occidentale si erano formati i regni romano barbarici in Oriente no, i barbari non erano riusciti a penetrare qui si stava formando uno stato molto ben organizzato e molto diverso da quello che era stato l'Impero Romano innanzitutto ad esempio la lingua ufficiale non era più il latino ma si parlava il greco la capitale Costantinopoli non venne più chiamata così ma si preferì utilizzare l'antico nome di Bisanzio tant'è vero che si parlerà sempre più spesso di Impero Bizantino anche se in realtà continua ad essere l'Impero Romano d'Oriente un'altra differenza fu il cesaropapismo una parola difficile che sta a significare che l'Imperatore qui non era soltanto il capo politico ma era anche l'autorità religiosa questo è un mosaico che ritrae l'Imperatore Giustiniano di cui parleremo tra poco come puoi notare viene raffigurato insieme alla sua corte e ha una aureola intorno al capo oltre ad avere la corona quindi lui è l'Imperatore e nello stesso tempo governa sia dal punto di vista politico ma anche è l'autorità religiosa quindi la Chiesa in questa parte dell'Impero è comunque sottomessa alla sua autorità ovviamente in Occidente i Vescovi Cattolici e il Papa non saranno assolutamente d'accordo con questa visione e questo provocherà poi qualche tempo dopo una divisione insanabile tra le due Chiese nel 527 appunto diventa Imperatore Giustiniano Giustiniano era un uomo molto ambizioso aveva dei progetti molto grandi il primo progetto era quello di riconquistare l'Impero d'Occidente questo in questa cartina ti fa vedere l'Impero Bizantino questa parte in azzurro è la parte e sono i confini di quando Giustiniano è salito al trono la parte in Lilla ti fa vedere le sue conquiste lui riuscirà a sconfiggere i vandali che si erano stabiliti sulle coste dell'Africa riuscì ad impossessarsi della parte meridionale del regno dei Visgoti nella penisola iberica e riuscì anche a conquistare il regno degli Ostrogoti per conquistare questo regno impiegò veramente tanto tempo decine d'anni le guerre furono molto sanguinose e sinceramente fu anche un'impresa abbastanza inutile perché successivamente i bizantini perderanno questi territori però durante il suo regno appunto questo farà parte dell'Impero lui manterrà la capitale a Ravenna e affiderà il governo del territorio a un governatore chiamato Esarca l'altra impresa invece molto più importante per cui Giustiniano viene ricordato è il Corpus Iuris Civilis conosciuto anche come codice di Giustiniano che cos'è? è una raccolta di leggi Giustiniano era convinto che uno Stato per funzionare bene avesse bisogno di un sistema di leggi valido e molto efficiente allora ora immagina la situazione allora i Romani avevano molte leggi poi erano arrivati gli Ostrogoti che avevano aggiunto alle leggi dei Romani le loro regole germaniche poi erano arrivati i Bizantini è chiaro che a questo punto c'è un rischio di grande confusione Giustiniano cosa fa? affida a degli esperti giuristi il compito di raccogliere tutte le leggi che i Romani avevano elaborato nel corso dei secoli di sistemarle cioè di togliere ciò che si ripeteva ciò che si contraddiceva eccetera e di raccogliere in un unico grande documento appunto il corpo cioè la raccolta delle leggi civili questo lavoro immane importantissimo ha permesso oltretutto che questo grande patrimonio culturale dei Romani potesse arrivare praticamente intatto fino ai giorni nostri e anche i giorni nostri un luogo di attività di un'amore